amici di corse di moto tv abbiamo un pilota che dobbiamo assolutamente farvi conoscere che corre qui nel virus power cvs renzo pratesi toscano doc ciao renzo saluti a tutti i nostri appassionati di moto allora voi direte da casa bravo fil ci fai vedere una moto d'epoca e una bella guzzi dovete sapere che renzo dentro questo paddock lo posso dire non sei una signora a 80 primavere ultimo anno di gare da quanto hai la licenza renzo da quanto corri mai fuori strada ho iniziato diciamo 65 anni fa è fatta questa cosa è fantastica cioè 65 anni fa quindi in pratica renzo corre da quando aveva 15 anni da quando arriva gaffino la famosa regolarità la regolarità perché ora non si chiama più così dall 80 ora è enduro però una volta era era la regolarità era consisteva proprio nel riuscire ad arrivare in orario cosa era rarissima poi quando le moto sono migliorate e hanno iniziato a fare le prove speciali come discriminanti perché iniziavano arrivare più di un pilota a zero e di lì insomma siamo arrivati in pista non ci si faceva più andare in moto da cross è stato un escalation in che anno renzo hai deciso di passare dalle ruote artigliate ovviamente alle alle gare su strada o su pista è stata la il trofeo guzzi che mi ha dato l'opportunità io sono un appassionato di guzzi fin da le prime moto che ha avuto e quando la guzzi world club ha deciso di fare di portare in pista si chiamò i primi trofei e aquile in pista si trattava di portare le nostre moto stradali a in fra i cordoli diciamo e da lì il primo anno fu un ammasso di moto vecchie guzzi nuove più più e dopo l'anno 2009 2010 arrivarono le special e allora mi sono fatto anch'io io ho partecipato col mio le manse tre che ho ancora le prime gare poi l'anno dopo tutti alla special allora c'era un amico ha demolito un sp1000 è stata l'occasione per fare e da allora insomma 2010 2011 questa ecco questa questa guzzi con tu calchi le scene della velocità in salita italiana che che modello è da quanto ce l'hai che soddisfazioni da anche perché è una moto impegnativa insomma sì no il problema è che queste guzzi purtroppo si entra in un campo dove si può fare tanto si arriva io non l'ho fatto perché ho mantenuto il motore con le teste tonde che i guzzisti sanno quanto è difficile elaborare comunque fino al 1060 è arrivato anche questo gli altri quelli che hanno i modelli dopo le teste moderne ma che a poi si può mettere sopra un motore di una breve al 1200 e già non si è un guzzista d'occa eh tu non hai mai avuto una moto al di fuori di guzzi ho avuto sì abbiamo iniziato col benelli leoncino il fuori 98 nsu cioè certe cose che ora cioè quando prima con la lambretta si andava a dire ti do la polvere era perché nelle strade sterrate effettivamente si usciva e da lì insomma il mondo è cambiato quante moto hai avuto renzo non lo so non lo so a un certo punto non hai più hai perso il conto comunque la mia aleman 3 e l'ho acquistata nell 85 con 7 mila chilometri e ce l'ho ancora è quella che uso normalmente per strada ecco infatti ti volevo chiedere noi ti vediamo qui alle gare dell'italiana in salita ma tu lo sapevo usi la moto di tutti i giorni no tutti i giorni nel senso della vita normale anche purtroppo diciamo io con i guzzi quando vedo una nuvola non la uso perché se mi si bagna ho paura che mi si arrugginisce no perché il pregio e il difetto di queste nostre guzzi è che naturalmente non sono curate come le giapponesi quindi io poi e poi alla mia io voglio bene la mantengo come deve essere ecco e ce l'ho prima ho avuto un ducati due ducati ho avuto un gt 750 un darma 900 però a quell'epoca era migliore la guzzi poi ora sfizio a due ruote mi sembra che tutto lo sia tolto e nel senso un po di moto le era e non erano sfizi di poi da poi dire quello dice perché c'è la moglie qui giustamente qui e quindi non mai far sapere alle mogli quanto si spende del malo scherzo senti tra l'altro una moglie appassionata perché vai ti accompagna ancora insomma no sono ui che è comunque un po' di cose diciamo che è molto utile non era così così convinta qualche ventina d'anni fa ora siamo soli già abbiamo i figli grandi nipoti quindi insomma si va bene insieme anche così senti adesso arriva la domanda un po più difficile no l'abbiamo detto all'inizio hai un'età ragguardevole sei informissima però è l'ultimo anno per cui si possa ottenere la licenza ti mancherà questa cosa di correre di poter venire alle gare voglio essere sincero che mi mancherà sicuramente però il nostro fisico a un certo punto ci dice che è il momento di passare magari a qualcosa di più tranquillo qualcosa insomma la passeggiata sicuramente si potrà sempre fare in moto però insomma non è che i riflessi non è che cioè sembra sembra che si possa fare tutto però se ci mettiamo alla prova si si rende conto che tutti gli anni manca un capellino un qualcosina e quindi insomma ma sarà una fine penso penso tutto sommato naturale ecco diciamo naturale. Dimmi una cosa Renzo a Spanne quante gare avrei fatto tra regolarità pista insomma ne avrai fatte una? Soprattutto l'epoca e la regolarità chi se ricorda qualche campionato toscano perché l'italiano l'ha fatto mio fratello che era più bravo di me comunque gare di toscano all'anno ce ne saranno state cinque sei insomma nei periodi e poi le quattro cinque gare l'anno di trofeo Guzzi di insomma. Un 500 gare secondo me le hai fatte? Penso insomma non stiamo a contarle comunque sono tante. Allora visto che tu sei pilota di grande saggezza e di percorso storico importante fai un appello ai giovani per venire a correre anche in salita no? Si guarda sempre la pista ma poi la salita ha un bel paddock no? È interessante come disciplina? Sì io sinceramente vorrei vorrei poter convincere quelli che cercano di fare le corse su strade aperte e sinceramente penso che lo stesso spirito se lo usano per fare le gare in salita così organizzate così diciamo con tante protezioni nessuno viene incontro ma poi uno trova il suo ritmo giusto insomma e non trova il camion che gli sbarra la strada o la macchina o l'animale che attraversa velocemente insomma io vorrei vorrei che questo insomma fosse compreso non tanto per implementare il numero in gara ma proprio per cercare di diminuire i rischi che si va su strada perché va su strada. Io l'avevo detto che Renzo Pratesi era saggio infatti è saggio ragazzi andate a correre in strada nei campionati appositamente studiati o in pista quindi comunque evitate di fare i matti per strada. Renzo io ti faccio un grande in bocca al lupo per questa stagione 2024 divertiti divertiti. Io sono vecchio non dico viva il lupo crepi il lupo crepi il lupo lo dico anch'io bravo bocca al lupo. Non è che il lupo tanto comunque ascolta io se Dio crepo o no. Non ascolta nemmeno te. No no e poi stanno tornando anche le nostre zone, li abitano in campagna insomma sono tornati i lupi. Buona stagione. Grazie grazie a voi e grazie perché a un certo punto anche voi siete meritevoli di diffondere queste notizie. Il verbo, il verbo del motoclimo su strada. Ciao Renzo, ciao.